Nel Cristianesimo Svelato, che è la prima opera anticristiana che il Barone pubblica nel 61, Dolbach chiarisce quello che è il suo intento, e cioè dice a chi abbandona la religione soltanto perché è trascinato dal proprio vizio, a tutti quei saggi che guardano la religione quasi sorridendo e quasi scorgendo in essa un insulto al buon senso. Io invece dico che occorre combatterla, ed occorre combatterla come cittadini, in quanto cittadini, perché? Perché la religione è nociva al benessere dello Stato, è nemica dei progressi dello spirito umano ed è opposta alla sana morale. Secondo Dolbach, nonostante, diciamo, Dolbach critica tutto quello che può essere criticato del fenomeno cristiano, cioè ne critica la formulazione dell'Antico Testamento, ne critica il Nuovo Testamento, critica le profezie, i dogmi, la teologia, la storia della Chiesa, ma la preoccupazione principale di Dolbach è quella di proporre agli uomini del suo tempo e non solo una morale molto più fedele a quello che è l'uomo in realtà, cioè l'uomo è un essere privo di anima ma assolutamente saturo di materia, è un essere necessitato in ogni sua azione ed è un essere e se noi partiamo da questa immagine antropologica dobbiamo anche poi proporgli una morale che tenga conto di questi dati. e quindi Dolbach si scaglia contro la morale religiosa, sia la morale del Vecchio Testamento sia la morale del Nuovo Testamento perché innanzitutto Dolbach dice il grosso problema dei cristiani e soprattutto in ambito morale è che i cristiani hanno un Dio improponibile dal punto di vista morale. Il Dio del Vecchio Testamento è un Dio che ordina, che chiede la pace ma che poi ordina dei massacri, è un Dio che è il Dio degli eserciti e Dolbach dice nelle serie scritture voi potete trovare tutto il contrario di tutto e per questo vi ho un testo assolutamente pericolosissimo. La morale secondo Dolbach deve essere una, deve valere sempre, indipendentemente dallo stato, dalla nazione alla quale deve essere esercitata. E fondare la morale su un Dio mutevole, su un Dio che cambia e anche se diventa buono come dice lui nel Nuovo Testamento, anche la morale che propone Gesù nel famoso discorso della montagna è una morale improponibile perché è eccessiva. E Dolbach dice il grosso difetto dei cristiani è che non sanno mai tenere il giusto mezzo, sbagliano sempre per eccesso o per difetto. Ad esempio un conto quando Dolbach parla della castità, dice hanno buttato fango sulle virtù dei pagani dicendo che erano assolutamente false virtù e dicono che la morale, la vera morale è nata con Cristo e con i valori da lui progressati. In realtà i pagani hanno formulato un discorso morale che era molto più stabile e malamente fattibile di quello formulato dai cristiani. Ad esempio la castità, dice Dolbach, sappiamo tutti noi uomini, sappiamo che occorre una certa moderazione nel da sfogo alle proprie passioni, ma dal trasformare la castità in una castrazione volontaria come la chiamato il bank è il culmine della follia. Il problema della morale del Nuovo Testamento è che si tratta di una morale eccessiva, impraticabile, una morale che mortifica l'uomo, che non tiene assolutamente conto di quello che è realmente, cioè del fatto che è sottoposto dalle passioni a cui deve giustamente da sfogo. Si tratta quindi di dimostrare secondo Dolbach che l'ateo, cioè colui che non possiede morale, che non possiede morale religiosa, in realtà attua una morale naturale, una morale che è assolutamente necessaria, perché si basa sulle leggi necessarie della natura che non cambieranno mai. E quali sono queste leggi? Il fatto che l'essere umano deve perseverare nella propria esistenza e deve tentare di rendere questa esistenza piacevole. E come fa? Dolbach dice che l'uomo che pensa e che sente ha semplicemente bisogno di pensare, di sentire per capire ciò che deve a se stesso degli altri. E cioè non occorre scomodare un Dio per dimostrare all'uomo che per essere felice deve farsi necessariamente amare. E come fa un uomo a farsi amare in un contesto sociale? Semplicemente adottando un comportamento che provochi stima, che provochi affetto nei confronti degli altri. Dolbach dice che l'uomo dovrebbe essere felice dal momento che la natura gli ha permesso di raggiungere una felicità vera su questa terra. Però se l'uomo vuole essere felice non può pretenderlo, non può pretendere di riuscire in questa impresa da solo, ha bisogno degli altri. La morale atea è anche una morale che, a differenza della morale cristiana, non ricatta con la paura di terribili tormenti o di speranze. E questa è una morale da schiavi essenzialmente. L'uomo che adotta un comportamento morale soltanto per paura o per speranza è un uomo che si comporta seguendo un po' il bastone della carota. In realtà l'azione morale, secondo Dolbach, di un ateo, che secondo lui anche il termine ateo forse è eccessivo, nel senso che ateo significa naturale. Il termine ateismo, diciamo, natura e ateismo sono la stessa identica cosa. Tanto è vero che Dolbach dice nel buon senso che i bambini nascono atei, nel senso nascono, sarebbe quasi una totologia, gli esseri umani nascono esseri umani e poi se vogliono trovare io bisogna che qualcuno glielo insegni, al contrario invece dell'ateismo. Allora, quindi diciamo l'intento principale di Dolbach è quello proprio di dimostrare non solo come per essere morali non occorre assolutamente credere, ma addirittura, cavocolgendo Bile, che per prima aveva detto forse dato può essere morale, Dolbach arriva addirittura ad affermare che per essere morali occorre necessariamente non credere. Ora, questa proposta di una morale assolutamente sganciata da qualsiasi demiurgo spirituale mutevole e dal quale discende poi una morale mutevole e dei dogmi inutili e a volte pericolosi viene enunciata nelle lettere Eugenie, che è la terza opera che Dolbach pubblica nel 1768. È un'opera molto particolare perché è il primo testo ateo che si rivolge espressamente ad un pubblico femminile. Perché? Perché secondo Dolbach le donne, la donna ha delle disfunzioni quasi fisiologiche che la rendono rispetto all'uomo molto più propensa ad abbracciare la superstizione. Perché? Perché la donna ha una poca esperienza del mondo a causa del ruolo in cui la dedica l'uomo. Perché la donna quindi ha un cervello assetato del meraviglioso. Il guaglio è che nelle società cristiane questa disponibilità femminile nei confronti alla superstizione diventa un vero e proprio asservimento alla figura del prete. E cioè, tra donne e superstizione che per Dolbach coincide con religione, sono sinonimi, si viene a creare un nefasto sodelizio che sembra indissolubile. Perché? Perché la donna riesce a dar sfogo, secondo Dolbach, a una certa repressione che vive proprio per il ruolo sociale che deve giocare. E riesce anche a dar sfogo a una certa cementeria insaziabile, che secondo Dolbach è una caratteristica del gentil sesso. D'altra parte il prete sa benissimo che è dalla donna che dipende il mantenimento della superstizione. Perché? Perché la donna gioca un ruolo importantissimo nell'educazione della prole. Da una donna religiosa quasi per necessità discendono figli superstiziosi. E quindi una donna superstiziosa consegnerà alla società i cittadini superstiziosi. Quindi il prete sa che fin quando ha il dominio sulla donna, diciamo, ha il dominio assicurato. Quindi pensare di convertire gli uomini al buon senso, e cioè all'ateismo, a questo paradigma che non ha bisogno di Dio per reggersi, senza preoccuparsi delle consorti, significa lottare in vanno. Ma le lettere o genie vanno messe anche in relazione con un episodio drammatico della vita propria del barone. E cioè la morte di Basile, la prima morte. Basile morì tremando dalla paura di essere dal mare. E cioè morì in preda al terrore e panico perché era assolutamente certa che sarebbe finita l'inferno. E lo spettacolo di una donna mide che dolce, che controbilanciava l'umore abbastanza caustico e brutale a volte del marito, riservato soltanto per le parole familiari, impressionò fortemente D'Opac. Tanto che lo convince a dover in qualche modo riorganizzare l'educazione delle anime, tra virgolette, appartenenti agli altri strati della società. Aperta parentesi, Charlotte, la seconda moglie del barone non fece la stessa fine della prima, perché il barone iniziava una vera e propria opera di proseguitismo domestico. Tant'è vero che parlava solo ed esclusivamente da teismo, sia a casa sia nel salotto. L'abate Galiani, c'è un aneddoto, l'abate Galiani andando a casa del barone e sentendo nuovamente parlare da teismo, gli disse se io fossi un imperatore ti farei vettere l'agonia e se fossi un papa ti avrei già fatto vociare. Ma visto che sfortunatamente io non sono né un imperatore né un papa, mi tocca tornare qui giovedì prossimo a sentirti volare nuovamente a teismo, anche se non si parlava soltanto di questo.